Ho iniziato con i cerotti il 12 di dicembre dell'anno scorso, quindi il 12 di maggio saranno 5 mesi per me. Sono una persona molto in forma, ho 50 più, 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 insomma più vicino ai 60 anni. Sono più vicino ai 60 anni. Funzionano allora se i cerotti che ne dite? Allora, diciamo, la prima cosa che ho notato erano le mie vene. Quando vedevo la mia pelle e dicevo, oh mamma mia, perché sono anni che sono un'avvocatessa della salute della pelle. Meno di una settimana, dai 3 ai 5 giorni, vedevo le mie mani e tutto il corpo, insomma, dalla testa ai piedi notavo delle differenze. So anche che ho avuto problemi di placca molto forte, diciamo, per tanti tanti anni. Cercavo sempre di far fuori questa placca usando vari strumenti, come se fossi una dentista io. Dalla terza settimana che usavo i cerotti non ho più avuto placca. I capelli anche crescono molto velocemente. Ah, io tra l'altro uso gli occhiali con delle lenti progressive. Li metto sempre, la prima cosa al mattino, la prima cosa che faccio è metto gli occhiali. Sapete cosa sono vero? Sia per la distanza che per la lettura. E notavo che quando portavo i cani a fare una passeggiata, li toglievo automaticamente. E quindi mi sembrava di vedere meglio, appunto, senza gli occhiali. Adesso non li metto per niente, finché non guardo il telefono, leggo qualcosa o sono al computer. Quindi è sempre la distanza, deve essere la distanza che sta migliorando. Molto, molto bello, sono molto contento. Ho anche un problema a un tendine del ginocchio destro. Facevo pilates, tutte quelle cose lì, però ormai sono anni che il ginocchio mi fa male. E mi dicevo, ma perché tutta sta gente con i cerotti ha tutti questi risultati fantastici? E perché il mio ginocchio invece non si ripara? Forse avevo altre cose da riparare prima, perché un giorno mi svegliai con un dolore fortissimo all'anca destra. Forse sono troppo pigra in questa fase della mia vita. Per tre giorni avevo un bruciore bestiale. Pensavo, aiuto, devo farmi vedere da un dottore. Mi svegliai il quarto giorno, niente, sparito. Feci una camminata lunghissima con i miei cani e il problema del ginocchio non aveva nessun problema. Non sentivo più niente. E il ginocchio non mi ha dato fastidio fino ad oggi. Ogni tanto sento una piccola sensazione. Ehi, sono ancora lì. Però, insomma, era un problema che avevo da tanti anni oramai. E non sapevo da dove iniziasse questo problema. Quindi, grazie. Come si chiama quando lavora prima in un posto diverso le cellule staminali? Ecco quello che è successo alla mia anca. E' partito da lì il dolore e voilà. Insomma, questo è il risultato di quattro mesi. Quindi, se conoscete persone che non hanno pazienza, che dicono voglio subito il risultato, adesso, 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 devono continuare a usare i cerotti. Ci vuole tempo.